Sì, eccoci su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano partendo dal catanese per la precisione da Aramacca dove i carabinieri sono riusciti ad arrestare un 22enne al termine di un inseguimento in auto. Il giovane insieme ad altri complici riusciti però a scappare avevano rubato un'auto a Catania. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia Aramacca hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 22 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Nella nottata intorno alle 2 l'equipaggio della gazzella della radiomobile stava percorrendo la statale 417 nel territorio ramachese in direzione di Catania quando l'attenzione dei militari è stata tirata dal transito in senso contrario di una Fiat Multipla con tre persone a bordo tutte poste sui sedili anteriori. Immediatamente i carabinieri per effettuare un controllo degli occupanti hanno invertito a lampeggianti accesi la loro marcia segnalando al conducente di accostare a margine della carreggiata. Invito totalmente disatteso e preludio ad un inseguimento a folle velocità. Nonostante le difficoltà dovute all'oscurità e a quel tratto stradale particolarmente insidioso, il militare conducente della gazzella è riuscito a tallonare la vettura dei fuggitivi i quali, vista l'impossibilità di sfuggirli, hanno deciso di bloccare l'auto al centro della strada fuoriuscendone di corsa mentre il veicolo era ancora in movimento tentativo in parte reso vano dal guizzo felino di uno dei militari che si è posto a loro inseguimento riuscendo a bloccare il 22enne mentre i suoi complici che indossavano guanti ed avevano il volto celato da uno scaldacollo sono riusciti nel buio a far perdere le loro tracce. Il controllo della Fiat Multipla che evidenziava la manomissione del blocchetto d'accensione ed il collegamento ad un'ulteriore centralina manomessa ha consentito di accertare che l'autovettura era stata poco prima rubata a Catania nel quartiere di Librino ad un'ignara signora alla quale successivamente è stata restituita dai carabinieri. All'interno del veicolo i militari hanno rinvenuto tutto l'occorrente per la realizzazione di furti e in particolare una smerigliatrice a batteria, dieci dischi per il taglio di metallo, vari attrezzi per lo scasso ed un cappellino con visiera per poter in tal modo scurare il volto ad eventuali telecamere di videosorveglianza. Per il 22enne nell'immediatezza tradotto presso il carcere di Caltagirone l'autorità giudiziaria ha disposto la convalida dell'arresto. Spaccio di cocaina e marijuana a Catania per la precisione nel quartiere Librino. Sono però intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e due pusher sono finiti in manette. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell'illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della sezione antidroga della locale squadra mobile ha eseguito una perquisizione all'interno di una mansarda condominiale di un immobile ubicato nel quartiere di Librino. Il controllo ha dato esito positivo in quanto gli operatori hanno sorpreso i due soggetti all'interno del locale in questione intenti a cedere stupefacente a due acquirenti. Nel corso delle attività sono stati rinvenuti e sequestrati 23 grammi di marijuana e 13 grammi di cocaina, oltre a un mestolo da cucina intriso di sostanza in fase di preparazione del tipo crack per un peso complessivo pari a 28 grammi. Nel medesimo locale, inoltre, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della droga in dosi, come una bilancia e buste in cellofan. I due pusher sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati collocati presso le rispettive abitazioni in attesa dell'udienza di convalida. Da Catania a Misilmeri, nel Palermitano, dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto due giovani ladri. Sono stati colti in flagranza dopo aver commesso un furto all'interno di un'abitazione. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 21enne e un 22enne, entrambi noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. I militari dell'arma della sezione radiomobile, allertati dalla centrale operativa, alla quale pochi attimi prima era pervenuta la richiesta di soccorso da parte delle vittime, si sono recati presso l'abitazione oggetto di furto, rinvenendo, nei pressi della stessa, l'autovettura utilizzata per commettere il reato, a bordo della quale è stata ritrovata l'area furtiva. Dall'ispezione della zona, gli stessi carabinieri hanno individuato, nascosti tra le sterpaglie, i due malviventi traendoli in arresto. Gli arresti sono stati poi convalidati dal giudice per le indagini preliminari di termini merese, che ha disposto per entrambi i soggetti la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Notizia dal siracusano da Priolo Gargallo, dove i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, su ordine dell'autorità giudiziaria di Siracusa, un pregiudicato di 31 anni il quale nel 2009 si era reso responsabile del reato di ricettazione. I militari, al termine delle indagini scaturite da un furto con destrezza commesso in una gioielleria del capoluogo, denunciarono il ricettatore, il quale, a seguito di una perquisizione domiciliare, fu ritrovato in possesso di parte della refurtiva costituita da alcuni orologi e bracciali. Al termine dell'iter giudiziario, il soggetto è stato quindi condannato a un anno e cinque mesi di reclusione, così i carabinieri lo hanno rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall'autorità giudiziaria. Torniamo a occuparci di Matteo Messina Denaro, perché ovviamente proseguono le indagini dopo la cattura del boss, per individuare soprattutto i fiancheggiatori di Messina Denaro, ovvero coloro che hanno favorito la latitanza del capo mafia. In tal senso è stato incastrato dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza Andrea Bonafede, possiamo definirlo il postino di Messina Denaro. Le immagini lo hanno infatti immortalato mentre discuteva proprio con il boss. Vediamo il servizio. Un video di pochi secondi smentisce le parole di Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al boss Matteo Messina Denaro e da qualche settimana in carcere per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena. I PM hanno depositato al Tribunale del Riesame, al quale Bonafede aveva fatto ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare, un video girato da alcune telecamere di sorveglianza piazzate a Campobello di Mazzara, paese in cui Messina Denaro si nascondeva. Nel filmato si vede Bonafede, a bordo dell'auto usata dai messi del comune, incrociare la Giulietta del capo mafia. I due veicoli arrestano la marcia e il boss e l'impiegato comunale si fermano a parlare. L'indagato ha sempre negato di conoscere il padrino di Castelvetrano, ma le immagini, come detto, lo smentiscono. Accusato di aver fatto da postino tra il medico Alfonso Tumbarello, che aveva in cura il boss, e lo stesso capo mafia, Bonafede si è difeso sostenendo di aver saputo che le ricette prescritte dal dottore a nome del geometra fossero realmente per suo cugino e di aver ignorato che il vero paziente fosse in realtà Matteo Messina Denaro. Torniamo a Catania per parlare però dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Catania. Una persona è stata denunciata con gli agenti che inoltre hanno elevato sanzioni per circa 20.000 euro. Vediamo il servizio. La Polizia Ferroviaria di Catania sta attuando una costante attività di prevenzione e controllo per combattere il degrado e restituire decoro all'area circostante alla stazione, garantendo maggiore sicurezza anche percepita ai viaggiatori. A tal fine, dopo i controlli di gennaio che avevano portato a elevare oltre 26.000 euro di sanzioni amministrative, è stata organizzata un'altra task force in collaborazione con l'unità della Polizia Municipale e del reparto cinofili della locale Questura. Le verifiche hanno riguardato gli esercizi commerciali orbitanti dentro e attorno lo scalo ferroviario di Catania, dove sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni inerenti alla vendita di prodotti non consentiti dalla licenza e per la mancata esposizione dei prezzi. In tutto sono state controllate 112 persone e 12 mezzi, di cui 6 sono stati sequestrati, elevati 28 verbali per violazioni al codice della strada e con minate sanzioni per circa 20.000 euro. In una diversa circostanza, un catanese di 61 anni è stato sanzionato e allontanato dall'area con provvedimento previsto dalla normativa sul cosiddetto daspo urbano, poiché è sorpreso a urinare dinanzi all'ingresso principale della stazione non curante della presenza di numerosi utenti. Poco dopo, l'uomo, contravvenendo all'ordine di allontanamento ricevuto, è stato nuovamente sorpreso in stazione dagli agenti della Polfer contro cui si è scagliato, spingendoli e strattonandoli, azioni per le quali è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Polizia di Stato di Caltanissetta, invece, nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, ha denunciato all'autorità giudiziaria 33 persone, eseguito 18 perquisizioni e sequestrato cocaina e cannabinoidi. 8 persone sono state deferite per reati contro il patrimonio, furto e ricettazione, 5 per detenzione di armi, 7 per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, 2 per guida sotto l'influenza di alcol e stupefacenti, 3 per abbandono di animali nel fondo altrui. E ancora, due minorenni sono stati denunciati per violenza privata, 6 soggetti invece per altri reati come evasione, immigrazione clandestina e minacce. Infine, 5 persone sono state segnalate alla locale prefettura, poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Cambiamo decisamente argomento, torniamo adesso a occuparci invece dello stromboli, andiamo a vedere com'è la situazione. Si è fermato sullo stromboli il trabocco ladico dall'area craterica nord, che aveva avuto inizio lunedì scorso. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo. L'alimentazione, che ha prodotto il flusso nell'arco delle ultime 24 ore, è progressivamente diminuita fino ad arrestarsi. I vari bracci, che si dipartivano lungo la sciara del fuoco, sono in raffreddamento, anche se permangono ancora alcune zone con elevate anomalie termiche causate dall'accumulo dei prodotti emessi. L'ampiezza del tremore vulcanico si attesta su livelli medi. Ed ora il calcio. Parliamo del Palermo. Ieri 0-0, deludente. 0-0 in casa contro la Ternana al Barbera. A fine partita ha parlato anche uno dei protagonisti del match, il calciatore rosanero Tutino. Sentiamo le sue dichiarazioni. Non arriva il mio gol, ma diciamo che mi interessa più. L'importante è che la squadra comunque faccia bene. Direi che non arriva la vittoria in casa davanti ai nostri tifosi, che è quello che viene prima, che volevamo a tutti i costi. Io sono tranquillo perché sto lavorando bene. Il gol è che sto crescendo di condizione. Partita dopo partita il gol arriverà. Penso prima alla squadra. Come ho detto, volevamo questi tre punti oggi in casa. Non ci siamo riusciti, però diamo comunque continuità di risultati che in questa categoria è molto importante muoverla a classifica. È un campionato molto difficile. Ogni giornata escono dei risultati. Guardiamo anche quelli di stasera. Il Cosenza che vince con la regina sembrava spacciata. Il Pisa che va a Parma e va a vincere. Noi stiamo dando continuità di risultati. Naturalmente non siamo contenti perché comunque in casa vogliamo far felici i nostri tifosi. Però è così, dobbiamo continuare a lavorare. Guardo il lato positivo, come ho detto, è importante comunque non perdere. Venivamo da tre vittorie, poi abbiamo fatto una sconfitta. Ora i risultati utili sono tre di fila ancora. Basterebbe una vittoria per dare valore a questi risultati. Secondo me abbiamo peccato un po' di lucidità negli ultimi metri. Stiamo lavorando molto in settimana su questo. Siamo anche un po' sfortunati perché se ricordo solo le mie occasioni, io il primo tempo, il secondo sono stato ribattuto, il portiere parato in aria, la palla per Saric dietro ci sta girando un attimo così. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare comunque in modo positivo. A Pisa andiamo con lo spirito di sempre. Cercheremo di fare il massimo, di vincere la partita. Sappiamo che sarà una partita molto difficile. Già siamo proiettati comunque a questa trasferta importante che giochiamo tra tre giorni. Dobbiamo recuperare, ma cercheremo di andare là. Consapevoli di affrontare una squadra è molto importante, ma siamo il Palermo e dobbiamo andare comunque in ogni campo a cercare di fare il massimo. Per il momento è tutto. Ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.